Io per riassumere le sue parole brevemente ma anche un qualche spunto della mattinata appunto vorrei sottolineare l'importanza sia da un lato l'importanza della necessità di una normativa, abbiamo sentito il direttore generale Bratti parlare di una legge quadro per la mobilità sostenibile ma appunto il bisogno impellente perché appunto occorre agire ora anche sulle nuove generazioni di elementi concreti e in questo il mobility manager appunto è fondamentale perché riesce ad ascoltare, analizzare quello che dipendenti, studenti eccetera eccetera hanno bisogno e proporre delle alternative quindi fare anche da raccordo tra alto e basso e si parte in tutto questo lavoro come diceva anche la dottoressa Brini dalle esigenze dell'uomo cioè bisognerebbe partire dalle esigenze dell'uomo Per questo vi do una nota di colore che mi ha colpito anche nella firma della dottoressa Martellato, la firma dell'ISPRA c'è scritta ad esempio nella sede di via Brancati 48 è disponibile parcheggio per le biciclette in area sorvegliata che mi sembra una cosa importante perché gli istituti, enti, scuole dovrebbero favorire anche con questo tipo di strumenti insomma la possibilità di tutti di spostarsi nell'ultimo miglio Partendo sempre dalle esigenze dell'uomo io darei la parola come da programma a Sergio Patella ricercatore ingegneri dei trasporti dell'università di Roma 3 che si è occupato appunto di un progetto di ricerca per la gestione dei bisogni di mobilità per l'area del tridente di Roma in modo tale anche di individuare e pianificare delle alternative sostenibili Il questionario è stato analizzato, il questionario è partito tra aprile e maggio e giugno insomma ma passo la parola a Patella Prego, un quarto d'ora L'obiettivo dell'intervento è quello di mostrare i risultati di un'intervista, dei datati raccolti e il relativo modello di previsione per la mobilità del tridente Dunque in primo luogo vorrei spiegare come nasce questo progetto dei mobility manager in rete specifico per il tridente Nasce da un caso studio molto particolare che è questo A seguito contestualmente alla rilocalizzazione dell'azienda Sky da via Salaria a Milano Anche l'azienda Fox che era localizzata sempre su via Salaria si è spostata a piazza San Silvestro Noi in quanto gruppo di ingegneria dei trasporti di Roma 3 siamo stati incaricati di fare un piano degli spostamenti casa lavoro per Fox in vista di questa variazione Allora l'idea è stata questa, quale miglior modo di prevedere gli spostamenti, cioè il mezzo scelto o come si organizzeranno i dipendenti rispetto alla mobilità di Fox Se non osservando quello che già fanno delle aziende che già sono localizzate nell'area del tridente Quindi sostanzialmente che cosa facciamo? Facciamo l'inverso di quello che fa la statistica normalmente Se normalmente viene desunta le caratteristiche della popolazione attraverso l'osservazione di una piccola parte di questa, cioè il campione, noi facciamo il contrario Cerchiamo di capire come questo piccolo campione di dipendenti aziendali modificherà le proprie abitudini sulla base dell'osservazione di popolazione E nei limiti in cui ci riferiamo alle aziende che hanno aderito all'iniziativa Dunque il caso studio è abbastanza atipico ed è molto interessante, perché? Perché ciò che osserviamo negli ultimi 70 anni è il fenomeno dello urban sprawl, cioè della dispersione urbana Anche detto suburbanizzazione Dunque cosa è accaduto? Che a seguito dell'aumento esponenziale della motorizzazione Che è dato, come diceva giustamente il dottor Grimaldi, dal fatto che al possesso dell'automobile è associato un sentimento di positiva autorappresentazione Allora c'è stata una corsa verso l'acquisizione di questo mezzo e tutti abbiamo l'automobile Quindi la prima conseguenza qual era stata? È stata quella di spostare le residenze dal centro verso la periferia Dove sostanzialmente c'erano più parcheggi e spazi più comodi Il secondo passaggio è stato quello di spostare anche le aziende verso la periferia E che cosa è successo? È successo che si è passato da una struttura urbana di tipo monocentrico A una struttura urbana di tipo policentrico, le cosiddette edge cities Cioè città a spigolo, questo termine città a spigolo rende l'idea di una sorta di poligono in cui ci sono diversi centri urbani In un recente, ormai quindicina d'anni, articolo di Edward Glaser che è un urbanista di Arbat Lui sostiene Quindi il fenomeno della dispersione urbana che noi viviamo a Roma non è causa di cattiva amministrazione ma la naturale conseguenza di un abuso dell'automobile Ecco perché questo caso studio è abbastanza particolare perché è un movimento inverso rispetto a quanto osserviamo negli ultimi 70 anni Allora, torniamo al questionario che abbiamo diffuso Dunque è stato somministrato online attraverso email dal periodo da marzo fino a maggio Le aree tematiche sono attributi socio-economiche orari degli spostamenti con eventuali soste durante il percorso abitudini di mobilità, cioè di base alla scelta modale attitudini verso la sharing mobility la percezione della sicurezza, soprattutto nei riguardi della bicicletta e un'indagine di mercato per un eventuale servizio di navetta interaziendale Ripeto, questo è il questionario che è stato sottoposto alle aziende che hanno adorito all'iniziativa che sono Presidenza del Consiglio dei Ministri Sace, Aran e Rinascente In totale abbiamo ottenuto 789 risposte Dunque, una breve analisi dei dati Per quanto riguarda l'età media si attesta sia per le donne che per gli uomini verso i 49 anni Invece, per quanto riguarda il genere questo dato ci fa sorridere un po' di più perché prevalgono le quote rosa al 62% rispetto agli uomini al 38% Per quanto riguarda la scelta modale il 43% utilizza il trasporto pubblico il 22% utilizza l'intermodalità tra l'automobile e il trasporto pubblico che funziona così viene presa all'automobile a partire dall'abitazione lasciata in un nodo di scambio intermodale per poi proseguire col trasporto pubblico lo scooter si attesta al 13% e l'automobile per tutto lo spostamento si attesta al 5% purtroppo alternative come la bicicletta o l'andare a piedi sono completamente trascurate così come l'intermodalità tra scudere e trasporto pubblico e i taxi Dunque, andiamo a vedere un po' di propensione verso alternative più sostenibili Per quanto riguarda il car sharing il 37% degli intervistati si dichiara interessato lo scure sharing invece ha valori più bassi il 13% manifesta interesse questo potrebbe essere attribuito a diverse cause in primo luogo il fatto che lo scooter ha dei costi inferiori rispetto alla macchina quindi sostanzialmente vale la pena ancora possederlo di proprietà poi in secondo luogo da un'indagine che abbiamo fatto precedentemente per fini di ricerca abbiamo rilevato che dà molto fastidio il condividere il casco per ragioni igieniche E poi, un'ultima considerazione per il parcheggio il motorino sostanzialmente lo si può parcheggiare sotto casa o sotto il luogo di lavoro quindi perché fare uno spostamento a piedi per andarsi a cercare il primo motorino in condivisione disponibile quando lo posso avere sotto diverso è per la macchina molto spesso il parcheggio è penoso per cui vale la pena a questo punto andarsi a prendere una macchinetta in sharing la navetta aziendale riscuote grandissimo successo il 52% sarebbe interessato anche a pagamento e invece il bike sharing così come la mobilità ciclistica purtroppo ancora non ha preso piede e non suscita grandi interessi ora, torniamo un po' inghietro rispetto al modello di previsione fatto per il caso di rilocalizzazione aziendale abbiamo visto che le alternative utilizzate dalle aziende che già risiedono che già operano nell'area del tridente sono automobili trasporto pubblico trasporto intermodale cioè transizione tra l'automobile trasporto pubblico e scooter allora che cosa abbiamo sviluppato? abbiamo sviluppato un modello comportamentale in grado di prevedere la probabilità che i nuovi arrivati utilizzano i mezzi che abbiamo rilevato dall'osservazione della popolazione quindi è un modello di previsione questi modelli sostanzialmente funzionano così si associa ad un'escelta o un'utilità e il presupposto di base è che ciascun soggetto decisore scelga l'alternativa che massimizza la propria utilità questa teoria che valse un premio Nobel negli anni settanta a McFadden è una teoria economica classica sostanzialmente che si basa sul principio dell'homo economicus cioè ogni soggetto decisore sceglie l'alternativa che massimizza i propri benefici attraverso un continuo diciamo un costante computo di pro e contro dunque funzionano questi modelli? allora la risposta è sì ma funzionano bene nel lungo periodo perché? perché sostanzialmente noi li abbiamo calibrati considerando delle persone che sono ormai avvezze che da tanto tempo che fanno spostamenti verso la zona ZTL i nuovi arrivati probabilmente avranno delle inerzie comportamentali e delle difficoltà tecniche ad abituarsi a quel genere e a quel genere di scelta modale ok? tipicamente il caso dell'accompagnare i figli a scuola sono abituati a farlo in macchina quindi nel breve periodo difficilmente rinunceranno alla macchina almeno per il primo tratto ecco perché il modello matematico che vedete in arancione sottostima il trasporto intermodale e sovrastima quello pubblico perché è calibrato su un campione che è abituato a venire qua quindi si effettuano delle correzioni le correzioni si effettuano attraverso dei costrutti di tipo psicometrico i costrutti sono sostanzialmente una serie di domande che si riferiscono a determinate aree sensibilità studiate in letteratura queste sono efficienza e rapidità sicurezza comodità e praticità economicità e redditività e l'immagine estetica quindi il processo di correzione sostanzialmente ci permette di prevedere con maggiore accuratezza gli spostamenti la scelta modale dell'azienda che si sta per rigolarizzare questo strumento ha il vantaggio di essere riprecabile quindi è un valido strumento per i mobility manager non devo più ricalibrarlo quindi se dovesse esserci una nuova rilocalizzazione nell'area del tridente il modello è applicabile fino a quando è applicabile fino a che non ci sono variazioni sostanziali nell'offerta cioè fino a che un servizio per esempio di car sharing che attualmente non viene assolutamente utilizzato prende piede allora il modello salta perché le abitudini sono cambiate e in quel caso va ricalibrato allora cerchiamo di individuare qualche conclusione proposta rispetto a quanto osservato sull'analisi delle aziende che già sono situate nel tridente abbiamo detto che il car sharing è abbastanza apprezzato c'è una forte propensione del 37% quindi cosa vale la pena fare convenzioni da parte di mobility manager con i maggiori provider e dei parcheggi dedicati in modo di facilitare il parcheggio e c'è anche un beneficio indiretto in questo perché levando dei parcheggi al trasporto privato lo disincentiviamo in qualche maniera quindi peggiorando le condizioni per l'utilizzo del trasporto privato probabilmente riusciamo a drenare un po' di domanda verso il trasporto pubblico o alternative più sostenibili la navetta aziendale piace moltissimo al 52% quindi in questo caso occorre organizzare il servizio e la definizione di percorsi tra if per quanto riguarda il caso di Fox è stato definito all'epoca sulla base dei dati osservati per loro un possibile percorso che ha come nodo di partenza piazzale dei partigiani c'è stazione Ustienzi che è un nodo strategico perché converge la ferrovia converge la linea B e converge inoltre c'è un nodo di scambio c'è un parcheggio comodo per chi fa il primo tratto in macchina a seguire le fermate di Circo Massimo dove viene raccolta l'utenza della linea B piazza Venezia e infine via di San Claudio cioè San Silvestro per quanto riguarda la bicicletta abbiamo visto che non riscuoto grande successo però il 63% dice tuttavia che potrebbe essere interessato ma solo se ci fossero degli interventi in primo luogo il più complesso per noi pianificatori è quello delle piste ciclabili è un intervento a lungo termine che merita degli studi specifici soprattutto per Roma poi questa è più facile la presenza di rastrelliere che facilitano il parcheggio e questo si fa a livello di amministrazione a livello di comune diciamo e poi la predisposizione di docce e spogliatoi questa è un'azione che dovrebbero fare i relativi mobility manager per la loro azienda anche rispetto a quest'ultima osservazione dei suggerimenti per i mobility manager è quello degli incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche pieghevoli un'ultima considerazione nei riguardi del trasporto pubblico è quello che varrebbe la pena il ripristino dei minibus elettrici che passavano su via del corso ricordiamo però che quando si parla di trasporto pubblico l'approccio è diverso perché il servizio di trasporto pubblico non viene usato chiaramente solo da dipendenti dell'azzolo del triente ma si inserisce in tutta la rete di trasporto quindi sostanzialmente i numeri di cui parliamo noi sono un'inezia rispetto quelli che questo servizio muoverebbe quindi occorre fare delle valutazioni su scala più ampia considerando l'impatto di questi veicoli su tutta la rete e ho concluso se ci sono che si sono